Allora, questo è un video. Qui abbiamo Lucio. Sarai io. Ok, tanto complimenti per l'energia del video. Ti ringrazio. Ho visto, ho sentito le prove. E' eccezionale, estremamente eccezionale. Ma sono cose che ti divertono a fare. Giusto che dicevo prima, qualcosa di attento. Quando avessi uno, ti trovi bene. Bene da fare. Qualche atmosfera troverai a qualche ora? Spero bella. Spero bella. Anche perché sembra che il tempo reggerà. E quindi prevedo una serata eccezionale. A parte il cast, quindi la squadra che ci sarà. Ho fatto dei cipoti, anch'io. Ci troviamo perché abbiamo seguito in questi giorni anche le future puntate. Quindi sappiamo cosa a chi trovavamo. Però poi ci sono artisti che non avevo neanche chiesto, anch'io, anche qualcuno l'avevo incontrato già quella volta. Però vederseli così dopo tanti anni è un prestito eccezionale. Quindi stasera penso sarà un super spettacolo. Anche perché, e anche la sofferenza stasera. Grande Lucio, complimenti, a presto. Ciao a tutti. Grazie.